La rete, come usarla bene e proteggere i figli dalle sue insidie, è il grande interrogativo di tutti i genitori, perché bambini e adolescenti non sono in grado di gestire e filtrare le infinite informazioni che gli giungono da internet, né sanno padroneggiare uno strumento che può provocare danni gravissimi. È un mondo che riserva molte opportunità, ma che richiede un'educazione. Io credo che il termine esatto sia proprio educare i giovani e i giovanissimi, perché ormai vediamo bambini in possesso di smartphone, di tablet, educarli ad un uso corretto di internet, che ripeto, presenta molte opportunità, ma sicuramente comporta anche dei rischi se viene affrontato in un modo non maturo e, d'altra parte, non possiamo pretendere che i bambini e i ragazzi lo siano. Quindi si richiama molta attenzione da parte dei genitori a affrontare insieme ai figli il mondo di internet, che non è un mondo che va sicuramente demonizzato, ma non va neanche preso alla leggera. Come difendere i figli dalle trappole della rete? Effettivamente a me capita di incontrare spesso dei genitori magari anche preoccupati, ma purtroppo un po' rassegnati, nel senso che dicono sì, ma come faccio? Lo fanno tutti e se non c'è la luce l'ha il suo amico e quindi si rassegnano un po' a subire questa cosa. L'importante è che invece insieme ai figli riflettano su queste cose. Ci sono alcune tipologie di genitori, c'è il genitore proibizionista, c'è il genitore permissivo. Noi vorremmo proporre il genitore riflessivo, il genitore che si siede accanto ai figli e con loro affronta internet. Internet apre al mondo o isola? Questa è una bella domanda. Io sostengo che internet crei connessioni e non crei relazioni. Per cui vediamo i bambini, spesso i quattro bambini insieme che anziché chiacchierare fra di loro, chiacchierano, se così si può dire, col proprio telefonino. La parte che io mi chiedo è il senso di dare a un bambino di 6-7 anni uno smartphone con un collegamento internet, che non è assolutamente una cosa positiva. E quindi si tratta paradossalmente di reinsegnare i bambini ad avere delle vere relazioni e non illudersi che le relazioni si costruiscono su internet.